dobbiamo il boriello chicken torna ibiza a fare lezioni bieri contro matri grandissime polemiche due palle sulla rete erano buoni erano fuori ma noi avevamo l'arbitro noi avevamo mobiglia noi avevamo pure l'arbitro sono riusciti a rubare con l'arbitro quindi stai dicendo che ho rubato? arbitro e tasto verde sono riusciti a rubare stai dicendo che ho rubato? ma sei il padrone di casa ma che brutta cosa tu eri arbitro eri l'arbitro arbitro e invasione ah invasione tasto verde e arbitro oh matri e belcasa hanno perso e danno la colpa a me come Maurizio gius bar ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti